Sergio Sgrilli da sei anni da sei anni Sergio Sgrilli è l'organizzatore del Buon compleanno si aveva telefonato voleva farlo essendoci non c'è ma lo facciamo lo stesso Marco voleva la festa che festa sia ricordare Marco con tristezza è offenda proprio è una bestemmia Marco è colore vita e casino era un cretino come noi era abbastanza asino anche se seriamente nel senso buono è stato tutti gli anni migliori sei bravissimo te lo devo dire sei un grande grandi ospiti e chissà che culo che ti fai per la fondazione sono contentissimo tutto ciò che è teatro pieno non c'era un posto solo di tutto ricavato va per la fondazione che sta costruendo questa casa che è meravigliosa e sta crescendo a vista d'occhio sembra un fungo se potete andate a vederla perché è tangibile la cosa spesso si manda i due euro si dice che vanno così lì puoi andare bene andate a Coriano così c'è anche quella collezione delle cose del sit per cui c'è un museo anche se c'è andate il domenica al tramonto c'è la fiammata fiammata insomma c'è il sit c'è il sit ovunque in questo uomo c'è tantissimo nel suo che ha sempre voluto bene dell'anima anche a te e noi a lui ciao ciao Grazie a tutti